Un castello tra i boschi e la montagna, dove i soli rumori sono quelli della natura più pura. Non è una favola, è il castello di Giuliopoli. Regalatevi un weekend indimenticabile. Nella nobile residenza troverete ogni comfort, camere, appartamenti, suite, ambienti dalle atmosfere più suggestive e una cucina sorprendente con menù creati esclusivamente dal castello. Castello di Giuliopoli, a Giuliopoli Rosello. Informazioni allo 0872 94 80 20 e su www.castellogiuliopoli.it A Giuliopoli, un'importante frazione di Rosello, in provincia di Chieti, c'è il castello di Giuliopoli. Un'imponente struttura adibita ad albergo-ristorante. Un ambiente raffinato vi trasporterà indietro nel tempo, pur offrendo servizi e comfort. Stanze da respiro medievale e appartamenti per le più svariate esigenze. Terrazzi e balconi per ammirare i passaggi circostanti. Sala biblioteca, piscina e giardino dei leoni per accedere alla taverna del cinghiale. Nel seminterrato del castello adibito al ristorante dove degustare una cucina genuina. Ideale per cene d'affari, pranzi e banchetti a prezzi competitivi. L'itinerario ideale per relax e fun immersion nella natura incantevole circostante. A due passi dal castello, il centro storico di Rosello e la famosa abitina, riserva naturale di lara bellezza. A due passi dal castello, il centro storico di Rosello e la famosa abitina. La cascata del Rio Verde nella riserva naturale con giochi d'acqua e percorsi all'interno del territorio comunale di Borrello. Il castello medioval di Docca Scalegna, il lago di Serranella, l'area archeologica di Juvanum, fanno del soggiorno al castello di Giuliopoli la vacanza ideale. Il castello medioval di Rosario e la famosa abitina, riserva naturale di Rosario e il lago di Scalegna. Il castello medioval di Torrello e il lago di Rocca Scalegna, riserva naturale di totale il�� quattro di Giuliopoli e la famosa abitina. La raccommeria di Juvanum, fanno del soggiorno al castello di Roma, raffazzo all'interno del prodigio. Dal giardino dei leoni si accede alla taverna del cinghiale Non fatevi intimorire dai nomi Qui l'accoglienza è squisita E non solo quella La taverna del cinghiale Un ristorante dall'ambiente intimo E cucina squisitamente ricercata Speciale il cinghiale cotto come il goulash A Rosello presso il castello di Giuliopoli La taverna del cinghiale Informazioni e prenotazioni 0872 94 80 20 Grazie